Ok, e partiamo. Allora, benvenuti, buonasera, siamo in 18, quindi già un bello numero, quindi siamo al mio secondo incontro, ma in realtà è già il terzo incontro di questo corso di scripting. Il corso, sapete che su Classroom si svolge, quindi se non siete iscritti su Classroom, ditemelo, iscrivetemi su Zoom, eccetera, e c'è un codice di iscrizione. Comunque sul gruppo di Facebook questo codice mi sembra che sia stato già dato e mi sembra che siete già iscritti, quasi tutti. Infatti vediamo un po' le persone iscritte a questo corso, quindi non dà il conteggio totale, comunque ce ne sono già un tot. In Classroom hai bisogno del codice di iscrizione, vediamo un po' se riesco a trovarlo, che tutte le volte mi sconfondo. Eccolo qua, questo qui, copia, quindi abbiamo questo qui, è il codice di iscrizione, iscriviti. Perché lì cerco di pubblicare il materiale, è il materiale che abbiamo poi sui lavori del corso, e qui c'è un po' di link utili, nel senso che c'è un... Io di solito organizzo queste sezioni, macro-sezioni, quindi un'introduzione. Poi questa è sostanzialmente la prima lezione che avevamo fatto il 13 novembre, che avevo fatto io, in cui avevo spiegato come fare sostanzialmente il lampeggio colore con script a zero lag. E poi c'era l'esercizio di fare un albero di Natale con le luci lampeggianti. Quanti di voi l'hanno già fatto? Questo qui vediamo un po'. Allora, otto, sembra ufficialmente. E vi torna che siete in otto, che avete fatto l'albero di Natale. L'albero di Natale viene fatto in... viene consegnato in un punto, adesso io non l'ho presentissimo. In Classroom dovete dirmi che l'avete fatto e dove l'avete fatto, con una foto almeno. Ma poi dovete metterlo... dovete metterlo poi su qui, no? Dove c'è una zona. Eva, mi senti? C'è, mi sembra, ma su Facebook c'erano le coordinate dove si potevano consegnare. Magari se Eva lo scrive poi in chat... Vediamo un po'. Nel mercatino di Natale, perfetto. Sì, l'idea è appunto che poi facciamo queste valutazioni, ma soprattutto più che le valutazioni vediamo poi tutti insieme gli alberelli che abbiamo fatto e quindi ci incontriamo. C'è anche un momento, insomma, in cui ci si incontrerà per Natale. c'è il calendario, che è stato pubblicato su Facebook, grazie al lavoro di coordinamento di... Ah, Giliola, che però adesso mi sembra che non ci sia adesso qua. Non stava... Dunque, il compito che ha dato Michelangelo, credo che avesse dato un compito. Adesso vediamo una seconda, lo vediamo brevemente. Ma comunque, il mio compito era abbastanza chiaro, giusto? Quindi passiamo oltre. Quindi lui ha fatto un novembre, comando e robot. Qui c'è la registrazione e poi c'è lo script robot. E' un po' se è lasciato scritto qua. No, forse l'ha messo su... Ah, ok, script robot dog. Ah, ok, nessuna data di scadenza. Quindi in realtà lui è stato molto, molto semplice. Quindi... Ah, dice... Secondo me, guardate, fate che a mio avviso, al di là di tutte le istruzioni, la cosa più semplice da fare è che riusciate a fare quello che lui vi ha fatto vedere a lezione. Tanto per iniziare. Quindi c'è più che altro da fare. In sintesi c'è già il cane che vi ha dato, quindi vedete se riuscite a usarlo. Aprite lo script e vedete se riuscite a capire cosa fa lo script. E quando avete fatto questa operazione, poi eventualmente chiedete di nuovo aiuto direttamente a Michelangelo. Magari io poi lo sento e vediamo di scrivere qualcosa di più... di più, forse più semplice da capire qui sul Classroom. Invece veniamo, proprio perché abbiamo relativamente poco tempo, all'incontro di oggi. Allora, 11 dicembre, oggi, link set, list e texture. Allora, io qui vi ho messo un po' di materiale che non andremo... Cioè, vabbè, vi faccio vedere il materiale che ho messo. In particolare ci sono un video che avevo fatto di 13 minuti, dove si spiega come si installa l'LSL Editor, che vedrete che lo userò anche stasera. Non è fondamentale usare l'LSL Editor, però per chi iscritta vi dà una serie di funzionalità interessanti per ridurre gli errori e per correggere gli errori. Quindi quello uno. Poi ho preso un... Andiamo al commento... Ok, Laura, che mi scazia. Qui c'è un link dove c'è una pagina dove spiega cosa sono le liste. Quindi mi spiega come fare le liste. Comunque le liste adesso le vedremo un po' meglio insieme, in maniera molto semplice. E vedremo uno scriptino che cerca di usare le liste. Ma soprattutto abbiamo un... Questo qui sarebbe lo script che andremo noi adesso a vedere. Questo è un documento che trovate su Google Docs. Questo documento illustra quello che andremo a cercare di fare. Quindi adesso io farò su per giù quello che vedrete spiegato in questa pagina. Riassumendo, l'idea è quella di creare una specie di struttura espositiva, quindi una serie di quadri, sui quali al click verranno visualizzate... In questo caso ho messo dei pittori famosi e per il pittore sotto tre esempi di quadri che lui ha costruito. Quindi l'idea è quella magari di riuscire a far vedere in maniera scriptata questo oggetto. Anzi, facciamo una cosa, ve lo rezzo qua, ve lo faccio vedere. L'oggettino in questione potrebbe essere questo. L'ho rezzato. Ok. Non toccate lo momento, lasciatemelo cliccare a me. Vedete che c'è questo signore. Vediamo se lo riconoscete. Ovviamente nella mia dislessia non potrò mai riconoscere. Credo che sia Monet. Allora Monet ha fatto questi quadri, questi tre quadri sotto. Cliccando, vedete che si passa a un altro artista, che questa volta è Van Gogh, e si vedono tre quadri di Van Gogh. Quindi questo è un modo per poter fare delle esposizioni che sono mutevoli, no? Cioè, nel senso che si può far vedere. D'altro io adesso ho messo tre quadri, ma in realtà potremmo metterne anche di più. E i quadri potrebbero anche essere messi... No, ma questo è proprio solo... Non dico facile, ma insomma... Qui è solo... E per dire... E per dire che... Cezanne? Beh, io non sono un espertissimo nel campo, ma l'ho trovato su internet cercando Monet. Quindi a meno che non mi sia preso una grossa cosa. Comunque nel caso fosse sbagliato, poi lo correggiamo. Sì, tra l'altro una delle cose che poi per i più bravi eventualmente vi posso chiedere è di far venire anche sopra la dicitura nel quadro per far capire, per scrivere anche che cos'è, no? Adesso però la cosa interessante adesso era quella di vedere come riusciamo ad arrivare ad avere un oggetto, un espositivo, una cosa espositiva di questo tipo e la cosa, diciamo, interessante è che i quadri possono anche essere messi tutti a formare un anello. Quindi in realtà questo oggetto può diventare grande come un'intera stanza espositiva. Ah, ecco, meno male. Credo che sia un altro ritratto di Monet, oltretutto. E' lui che si è dipinto. Almeno mi sembrava di averlo visto quando lo cercavo. Dicevo, quindi si può fare veramente anche una struttura di questo tipo che abbia anche 200 quadri e quando lo cliccate praticamente cambia tutti i 200 quadri. quindi si può fare una rotazione di questo tipo. Perfetto. Allora, adesso questa cosa qua per il momento la cancello. Per quelli che non c'erano prima cliccate su questo albero rosso. Perchè mi sono divertito a torturare un prim per fare questo albero. Vedete, questo qui è un cubo su cui ho giocato un po' con i parametrini ed è venuta questa cosina strana. Se andate sopra col mouse vedete che compare la dicitura la dicitura L$ che vuol dire che lo si può comprare cliccandolo praticamente vi fa vedere il suo contenuto dentro c'è la scena 1, la scena 2 che sono più o meno quello che vi ho fatto vedere prima e poi ci sono tutti i quadri su cui ho operato e fate compra e facendo compra tutto questo materiale vi compare nel vostro inventario sotto una cartella che si chiama materiale texture 11 dicembre 2019. Ok? Quindi siete riusciti a tutti a prendere questo materiale? Ma adesso qui diventerà un po' affollato questa cosa qua però direi che a meno che non ci siano che non ci siano disturbi alla quiete particolari lo lascerei vicino all'altro albero e così se per caso anche chi non è venuto qua e vede il video e vuole venire a prendersi questo materialino lo può fare. Ok. Allora, se siete tutti pronti io partirei con effettivamente quello su cui stiamo lavorando. Allora, partiamo con ordine quindi cominciamo con i linked set linked set o anche oggetti com'è che li chiama qua in italiano che non mi viene mai parti collegate credo che si chiami quindi in inglese link set e in italiano parti collegate io però ho imparato second life in inglese quindi rimango un pochino rovinato insomma da inglese quindi dirò link set link set che sono insieme insieme collegati link collegamenti set insieme no? Allora, cos'è un link set? Link set è un insieme di prim quindi come dice il termine sono tanti prim che sono gestiti da second life open sim come se fossero un tutt'uno quindi chi di voi ha fatto un po' di build su Edmondo anche qua ce ne sono siete un pochino builder questa è una cosa di building diciamo dovrebbe averli visti chi non li ha visti sappia che tutte le cose complesse che si facevano in in second life quindi anche gli abiti insomma le altre cose prima delle mesh venivano fatte tutte con dei link set cioè praticamente mettendo dei dei cubi delle sfere dei triangoli insomma tutte queste immagini tutte insieme poi venivano accorpate in particolare credo che questo mio abito che c'è adesso qua è un link set in qualche modo allora partiamo vediamo un po' come costruiamo un link set quindi cominciamo col costruire un cubo vedete che c'è il mio cubo che sto creando e questo cubo lo voglio innanzitutto voglio fare una struttura che abbia allora visto che questo cubo lo vorrò far diventare tipo una una tela insomma per esporlo magari comincio ad appiattirlo quindi faccio ctrl shift e comincio a appiattirlo non so quanti di voi sanno fare queste cose ma sono tutte cose molto utili se non le sapete fare se le sapete già fare quindi ctrl shift compaiono queste queste maniglie rosse verdi blu io prendo la rossa ad esempio e la piattisco facendo ctrl shift e poi trascinando col mouse e poi lo cambiate le dimensioni in modo tale che rimanga una che rimanga delle dimensioni che ritenete opportune sempre lavorando col ctrl shift ok allora supponiamo che questo sia un pezzo del nostro del nostro del nostro link set il link set è formato da più di un oggetto quindi dobbiamo creare un altro oggetto allora un altro oggetto cosa vuol dire o creiamo direttamente un altro cubo oppure possiamo anche duplicare questo cubo voi sapete come si duplicano i prim una volta selezionati la duplicazione è abbastanza semplice nel senso che quando si è in modifica dell'oggetto e ci sono le freccine fatte no io lo faccio proprio con shift e poi trascino la freccina quindi lo trascino come se volessi trascinarlo ma tenendo premuto lo shift e così l'ho duplicato shift d vediamo non so se funziona shift d no non lo fa quindi forse shift d era su blender forse che fa questa cosa e purtroppo poi ogni ogni programma usa le sue usa le sue cose e facciamo ancora e quindi tanto per confondere le acque insomma abbiamo lo duplico tre volte e ottengo praticamente shift d funziona funziona shift d a me non me lo fa cioè se fai shift d e poi trascini con la cosa funziona perché stai premendo shift ma non perché stia funzionando shift d però insomma non è il modo che riuscite per fare la la duplicazione va benissimo non è importante allora supponiamo di aver fatto tre oggetti e di voler fare in modo tale che questi oggetti siano collegati fra di loro allora cosa si fa si seleziona con il contro questa volta si seleziona il primo poi si fa contro e si seleziona il secondo e si fa contro e si seleziona il terzo vedete che diventano tutti con il contorno giallo allora una volta che avete selezionato con questo sistema i vostri n oggetti potete fare il link che facciamo con la tastiera lo trovo molto comodo in realtà si può fare anche dal menu costruisci comunque facendo ctrl l vedete che cambia qualcosa non so se percepite cosa è cambiato una domanda è un po' sottile la differenza è che no due sono blu e uno è giallo in pratica l'ultimo che ho selezionato rimane giallo che era quello prima e i precedenti che avevo selezionato rimangono blu allora questa differenza è fondamentale perché il pezzo che è rimasto giallo viene chiamato la radice root del link set quindi il link set praticamente è definito dal suo root cioè quando voi selezionate uno quindi fate tasto destro su uno degli oggetti del link set fate modifica quello che viene selezionato è quando avete il contenuto qua e in pratica il link il root il root prim cioè il prim il prim giallo questo diventa importante da sapere allora una volta che l'oggetto è linkato cosa succede? succede che se muovo l'oggetto vedete che si muove non posso muovere le parti dell'oggetto senza muovere tutte le altre in pratica sono collegate fra di loro questo è il senso di fare un link set quindi questo è molto interessante perché voi ad esempio potete mettere questi oggetti a formare non so tutti i quadri di una stanza e poi li potete spostare copiare e tutto in un'altra stanza semplicemente spostandole uno e si sposta tutto fin qui è chiaro o sono troppo è troppo complesso sì poi è chiaro che queste cose vanno vanno anche poi esercitate soprattutto per chi non le ha mai fatte prima ecco può essere utile in certi contesti modificare uno solo degli oggetti nel senso che una volta che il link set è fatto se voi fate control shift vedete che potete compaiono queste maniglie bianche e poi si possono muovere adesso non me le fa fare ah sì perché sono perché sono troppo piccoli sì in realtà la scusate rifaccio questa demo con dei cubi normali perché se no abbiamo un problema quindi prendo uno due e tre cubi no e anche quattro se volete quattro cubi e poi faccio lo stesso gioco di prima quindi shift click shift click shift click e poi controllo L vedete che anche qua sono quattro i tre i primi tre che ho cliccato sono blu e l'ultimo è giallo ora control shift e posso vedete che posso cambiare le dimensioni e posso rimpicciolire il mio link set e quando lo rimpicciolisco o lo ingrandisco si rimpicciolisce e si ingrandiscono anche tutti gli altri ok e questa tra l'altro è una caratteristica molto utile si si tra l'altro voi potete mettere insieme fino a 255 oggetti se non ho derrato poi forse in open sim addirittura avevano messo un limite avevano tolto il limite 255 non mi ricordo più comunque di solito non conviene farlo far metterne tantissimi oggetti perché poi diventa difficile gestirlo ma adesso per i fini che ci interessano noi per questo incontro prendiamo degli oggetti semplici poi oggetti complessi cosa intendi Susanna degli altri link set tipo delle sedie eccetera eccetera se questa è la domanda sì solo che quando link insieme una sedia con altri oggetti in realtà espandi il link set della sedia la sedia magari è già un oggetto e tu le espandi andando a includere anche i nuovi oggetti questo l'ho fatto vedere prima nell'inizio della lezione e perché a questo punto faccio farlo rivedere c'è una funzione molto bella di Firestorm per cui se andate su Firestorm e su costruzione 1 potete qui depositare una texture e questa texture una volta che è depositata qua viene usata ogni volta che viene creato un oggetto e qui tra l'altro prima nella lezione ho fatto vedere che si può anche mettere quali sono i permessi predefiniti degli oggetti che trovo anche questo molto molto utile prima quando l'ho fatto vedere le persone qui erano tutte contente perché dicevano che così quando creano gli oggetti si capisce di chi è l'oggetto si mettono appunto una figura tipo questa che fa vedere chi è che lo crea comunque torniamo un attimo all'inkset all'inkset abbiamo visto che questo lo posso ingrandire o ridurre tutto insieme invece purtroppo questi quadri qua avete visto prima che non potevo ridurli però posso ingrandirli il motivo perché non si possono ridurre è solo dovuto al fatto che in Second Life in OpenSim un prim non può essere più piccolo lungo una dimensione di un centimetro no? e riducendo questo prim visto che vedete che lo spessore è già un centimetro piccolissimo non può andare meno di un centimetro e quindi lui si rifiuta di restringerlo quindi se per caso aveste una cosa simile sappiate che c'è quel problema lì in realtà poi ci sono degli script che permettono anche di restringerli lo stesso sì esatto però ci sono degli script che permettono di fare anche quel mestierino lì anche quando gli oggetti sono molto piccoli ma ovviamente non ne parlo adesso se siete interessati magari ne parliamo in altra in altra sede allora dicevo link set una delle caratteristiche del link set è quindi di funzionare come un tutt'uno no? nel senso che lo muove e lui si muove tutt'uno ma supponete che voglia in realtà modificarne un pezzo del link set allora per modificare un pezzo del link set occorre andare dentro le proprietà questa che abbiamo visto che è essere il root e poi selezionate modifica parti collegate facendo modifica parti collegate a questo punto cosa succede? che posso selezionare andando col click singolarmente ognuna dei prim da cui è composto e a questo punto su ognuno di loro posso fare dei misteri diversi quindi posso ingrandire separatamente o spostarlo cosa che è molto utile per allinearlo eccetera in modo tale da allineare questa cosa qua quindi in questo modo noi siamo in grado di lavorare sul link set e di metterlo grosso piccolo eccetera quanto ci interessa in questo caso supponiamo che questa potrebbe essere una sorta di totem in cui magari in cima faccio vedere non so tipo il nome dell'autore e poi sotto i quadri questa potrebbe anche essere un'idea ora piccolo trucco se voi vedete quando io seleziono uno degli oggetti qua mi compare numero link e c'è un numerello vedete che se clicco sul root mi compare uno se clicco sul secondo mi compare due qui mi compare tre e qui mi compare quattro questo numero è il numero del 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 prima all'interno del link set ed è molto importante negli script tra poco tra poco vedremo che è molto importante perché faremo uno script che visualizzerà delle cose nel link set nel punto opportuno però dovete sapere qual è il numero del link set quindi il primo modo per capire qual è il numero del prim è quello semplicemente di andare modifica parti collegate clic e vedo qual è il numero c'è anche un altro piccolo trucco che vi faccio vedere che quando seleziona prendiamo questo oggetto modifica parti collegate allora quando si fa modifica parti collegate non so se funziona contro contro virgola contro virgola praticamente si sposta sui vari elementi del link set contro virgola e contro il punto direi che contro il punto va dall'uno in avanti e questo è anche un modo molto comodo soprattutto per l'inx set dove magari gli oggetti linkati sono nascosti o sono molto piccoli sono difficili da cliccare allora il contro punto il contro virgola vi permette di selezionare rapidamente il pezzettino del link set vi è chiaro tutto questo? ok allora adesso abbiamo finito direi o almeno quanto meno questa è la parte di building quindi voi in questo momento avete imparato come costruire un link set avete imparato come selezionarlo come modificarlo adesso andiamo a scriptarlo dunque si funziona anche con oggetti mesh ma con delle piccole differenze nel senso che gli oggetti mesh cioè mentre questi hanno le loro facce il mesh le facce del mesh sono poi i suoi materiali ma ne prendiamo magari ne prendiamo magari eventualmente in un'altra occasione allora dicevamo nuovo script facciamo un nuovo script e poi la cosa interessante è che allora facciamo così facciamo ecco vedete che purtroppo c'è un po' di confusione che nasce perché prima avevo selezionato modifica parti collegate quindi lo script me l'aveva messo non nel root ma nello script nel primo che avevo selezionato invece conviene quando si mettono degli script dentro del link set mettere tutti gli script nel suo root che in questo caso è quello di sotto in questo caso ho creato uno script qua vedete che l'ha messo qua e lo cancello perché può essere confondente quindi tasto destro elimino ok e poi tolgo modifica parti collegate per il momento quindi adesso selezionando l'oggetto senza modifica parti collegate implicitamente lui ha aperto l'inventario del root nel root gli facciamo un nuovo script questo sarà uno script che chiamiamo texture perché perché lo chiamiamo texture perché dentro lo script adesso gli diremo di lavorare cioè di visualizzare sui vari pezzettini del nostro link set delle texture che gli diremo le texture che vogliamo visualizzare di solito si mettono nel contenuto di questo oggetto quindi noi andiamo nel nostro materiale texture e andiamo a prendere tutte le texture che vogliamo in qualche modo visualizzare che sono questo Van Gogh eccetera tutte queste le selezioniamo e le trasciniamo tutte in blocco dentro il nostro oggetto quindi dentro il nostro oggetto a questo punto ci sarà Van Gogh Van Gogh campo eccetera eccetera allora lo script cosa facciamo gli facciamo fare lo script allora lo script quando entra mettiamo tutto in modo tale da poterci lavorare quindi mettiamo il nostro inventario qui sulla sinistra ci mettiamo a fianco il nostro il nostro script che stiamo scrivendo se ritenete opportuno fate modifica quindi andate sul su questo editor questo editor che è questo qua in fondo quella caratteristica ecco non ci riuscirò mai selezionarlo bene ok questo ora mettiamo questo magari mettiamolo sotto questo è lo script ora proviamo a fare nello state entry una istruzione che visualizza una texture su uno dei nostri cubi quindi come facciamo facciamo il comando e si chiama ll link no ll set link text vedete che mentre scrivo lui mi aiuta e mi fa l'auto completion e mi dice quali sono i comandi che sono simili a quello che sto scrivendo e mi dice anche quali sono i parametri da usarsi ll set link text che è quello che voglio usare mi dice che per usarlo devo dargli il link number la texture e la faccia allora faccio così e lo vedete che a questo punto mi fa vedere in rosso che devo mettere il link number quindi la cosa che posso fare è di far venire su il link set che si chiama uno sì sì ve lo copio in chat se metto uno qua vuol dire che vado a scrivere sul sul link che aveva il numero uno se vi ricordate il link che aveva il numero uno era root e poi devo scrivergli il nome di un oggetto di una texture che abbiamo nell'inventario quindi mettiamo cloud bonnet questa ora se non riuscite a scrivere esattamente cloud bonnet potete andare qua a fare F2 ctrl c facendo ctrl c da qua andate qua fate ctrl v chiudete le virgolette e poi dovete dirgli ecco in questo caso lo voglio si dice all sides quindi all underscore sides lui me lo propone invio me lo completa a questo punto chiudo la parentesi e faccio punte virgola e faccio ctrl s e vedete facendo ctrl s non so se avete notato lo script è stato salvato dentro Firestorm si c'è qualcuno col telefono aperto vero vediamo un po' se riusciamo a individuare chi è forse Giovanna forse Giovanna aspettate che mutiamo Giovanna si dovrebbe essere ok questo punto forse ce la facciamo allora mi avete seguito adesso con questa cosa che ho fatto quindi mi avete chiesto di mettere lo script in chat andiamo e questo qui è lo script che mette il ritratto di Monet sul cubo di numero che è al numero 1 non so se voi siete riusciti anche voi a fare qualcosa del genere non so se state provando comunque così abbiamo messo Monet in fondo in realtà noi Monet magari lo vogliamo mettere in testa per dire questi sono i quadri di Monet e quindi lo script lo cambiamo e invece di dirgli di metterlo nel nel 4 lo possiamo mettere nell'1 gli diciamo di metterlo nel 4 quindi mettiamo quella Monet sul 4 4 vuol dire che lo mettiamo in cima e gli script che stiamo facendo ci sono anche su Classroom adesso lo vediamo se lo volete solo su una faccia dovete capire qual è la faccia e come si fa a capire qual è la faccia l'ho fatta in maniera analoga come abbiamo detto prima quindi dovete innanzitutto andare in modifica parti collegate e poi andate ancora in seleziona faccia e poi qua selezionate la faccia e da qualche parte c'è il numero della faccia questa è la faccia 2 questa qua invece è la faccia 1 quindi se volete farlo sul link link 4 ma sulla faccia 1 possiamo farlo e gli mettiamo sulla faccia 1 sempre del più del 4 possiamo mettere sul 3 vi faccio vedere la differenza quindi mettiamo 1 ora se tutto va bene contro l'S dovrei trovarmi il faccione di Monet su questa faccia del cubo sotto quindi in realtà voi potete anche controllare esattamente la faccia e tra l'altro con la tecnica che vi ho detto quindi di controllare con seleziona faccia e modifica parti collegate andate a colpo sicuro mentre invece ho visto molti scripter che non sapendo questa cosa provano tutti i numeri finché non gli viene quello giusto che ovviamente non è la cosa più comoda che si può fare no? giusto? ora in realtà qui a questo punto è solo questione di meccanica no? dello script semplice vuol dire che noi adesso magari torniamo a mettere all signs e mettiamo che lo mettiamo sul 4 quindi qui sul 4 mettiamo come titolo il nostro autore e poi facciamo ctrl c ctrl v perché tanto mettiamo una cosa uguale allora sul 3 gli mettiamo uno dei suoi quadri e il quadro lo chiamiamo abbiamo visto prima quindi provvedere come era facciamo così ok claude monet donna ad esempio quindi claude monet trattino donna e questo lo stiamo mettendo sul terzo dunque ah si dovresti fare ctrl s facciamo ctrl s e come per magia la donna è apparsa sul sul cubo numero 3 se noi vogliamo andando avanti così possiamo metterci gli altri le altre texture quindi sul 2 gli mettiamo claude monet anziché donna ninfee ad esempio e così abbiamo le ninfee là sotto e poi possiamo fare ancora ctrl c ctrl v sull'1 che sarebbe più in basso gli mettiamo claude monet scogliere ecco qui ricordatevi di mettere esattamente minuscole e maiuscolo esattamente come scritto qua ecco perché dicevo che per evitare problemi forse la cosa migliore è fare f2 ctrl c qua giù e poi qui andate e gli fate il ctrl v in questo modo abbiamo depositato le quattro texture nei posti che ci interessano così vi sembra chiaro come come script chiaramente stiamo giocando un po' no? quindi serve più che altro per giocare con gli script bene ne approfitto anche per per farvi vedere una cosa dunque si possono inserire texture non da contenuto ma da texture in realtà si può fare una cosa senza doverlo mettere nel contenuto si può se voi avete un'immagine vostra io vado nel mio inventario contro lì e vado a cercarmi tutte le texture e nelle texture vado a prendermi è un po' ah qui c'erano elementi recenti no tutti gli elementi andiamo a vedere qui una texture qualunque questa qua questa qui vedete che è un quattro di bastoni quattro di bastoni qui vedete che c'è un campo che è scritto UID UID è praticamente il nome di questa texture se io la clicco viene copiato il suo UID e io posso andare nel cosa invece di mettere il 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 nome della texture gli metto ctrl V l'UID che ho copiato dall'inventario facendo in questo modo facendo qui ctrl S vedrete che è comparsa la texture anche se non è in inventario no non c'è differenza diciamo che il metodo di mettere le texture dentro la dentro la l'inventario aiuta a capire quali texture dovete usare invece andandole a prendere direttamente dal vostro inventario personale può essere più semplice se volete evitare di andarlo a mettere a fare confusione dentro il contenuto della del prima non so se è chiaro comunque già questa è già una cosa abbastanza evoluta questo vedete che è un numero strano questa roba qua questo numero si chiama UID del numero complesso invece torniamo un po' da noi Claude Monet scogliere e abbiamo fatto questo ora una cosa che si può fare è di fare ll set link text no non c'era il text set ah c'era il modo per mettere il text ma lo niente saltiamo un attimino lo faccio vedere magari poi dopo su classroom lo inserisco per mettere proprio il titolo volevo farvi vedere ma è già troppo allora domanda visto che avete visto un po' il corso di Michelangelo eccetera come fareste voi per fare in modo tale che quando clicco questa cosa qua cambino le texture cioè che invece di far vedere questo insieme di texture faccio vedere un altro insieme di texture vediamo un po' se qualcuno ha qualche idea quale quale evento devo aggiungere in questa in questo script ok un touch start perfetto allora il touch start grazie alla potenza incredibile del lsln editor posso fare touch vedete tow e lui mi dice mi fa vedere tutte le possibilità e io posso selezionare touch start e vedete che mi compila automaticamente le parentesi tutti i numeri le parentesi graffe tonde eccetera e lo completa tutto non so se cogliete il vantaggio di poter usare questo editorino che ripeto non è fondamentale non è fondamentale ma è sicuramente per chi soprattutto magari ha difficoltà a scrivere le parentesi e cose del genere può essere interessante allora touch start diciamo che quando quando facciamo touch start vogliamo cambiare completamente le cose che visualizziamo allora il modo più più bello insomma più elegante per farlo potrebbe essere quello di dire andiamo in uno stato che chiamiamo state van gogh quindi la cosa può essere semplicemente andiamo in uno stato che chiamiamo van gogh quando siamo in van gogh visualizziamo la roba di van gogh e quindi ci costruiamo uno state van gogh graffa aperta e graffa chiusa e poi dentro ci mettiamo uno state entry e anche quello facciamo coppia quindi ci facciamo un secondo stato secondo stato ok questo stato vedete che tra l'altro è tutto disallineato e quindi con later gli facciamo una funzioncina advanced che fa format document ctrl d e allinea tutto quindi se noi abbiamo tutto disallineato questo qua qua questo qui qua no questo qui non ce la fa allora avete altro altro gialline questo qui qui delle cose tutte storte facciamo ctrl d e lui ce le allinea tutte quindi un'altra utilità del editorino che stiamo vedendo allora in van gogh però per farlo allora inzitutto magari togliamo questa ll6 0 così togliamo anche da qua anche di troppo e allora invece di fare cloud monè dobbiamo dirgli di usare van gogh quindi van gogh abbiamo detto che clicco qui se aspetta dunque allora secondo modifico particola legata è nostra facciamo sposta e questo ok vedete che abbiamo tutte le nostre texture messe a posto abbiamo van gogh testo trucco f2 ctrl c andiamo qua quindi qui al posto di cloud monè gli metto van gogh e poi c'è van gogh campo 4c vado qui gli mettiamo ok van gogh campo poi abbiamo van gogh notte stellata notte stellata e infine van gogh tempesta e qui andiamo a fare anche questa cosina qua ok quindi a questo punto facendo ctrl s in questo momento rimane sempre il nostro rimane il nostro monè ma noi se facciamo click ci aspetteremmo che cambino tutte le texture e infatti stanno cambiando però se clicco ancora mi aspetterei forse che tornino le texture di monè e non lo fa perché non lo fa perché lo script adesso quando faccio il touch che sono su van gogh dovrebbe dire ritornare sullo stato di default di state default facendo così questo script adesso funziona nel senso che clicco una volta mi va in van gogh clicco un'altra volta mi torno in monè e così via come mi sembra questo scriptino e vedete che è anche abbastanza efficace allora se vogliamo farlo proprio bello 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 dovremmo fare visto che van gogh c'è verso il stato facciamo uno stato anche per monè quindi anziché fare default facciamo state monè e poi qui gli diciamo invece di andare in default andiamo in monè che è bello però visto che ci va comunque uno stato iniziale facciamo un default e nel default gli mettiamo state entry e nello state entry diciamo di andare nel primo che vogliamo quindi state monè monè l'altro mi sembra che dovrebbe fare l'autocompletion ok state monè così diciamo che il nostro script quando appena entra la prima cosa che fa è andare nello stato di monè e poi oscilla fra i due stati ma vabbè era solo perché mi disturbava il fatto di avere la simmetria fra sì va bene allora a questo punto quindi vedete che funziona uguale e oscilla fra i due stati sembra complicato questo script no allora questo script qua esattamente come un super ju come è fatto adesso lo dovrei averlo pubblicato su classroom quindi se voi andate in qui vedete che spiega più o meno quello che abbiamo visto prima quindi facciamo vedete che qui faccio vedere cosa succede quando si selezionano con il qui non ho detto esattamente i tasti da premere ma comunque sono qua il limite lo correggo poi qui vedete che dice qual è il numero del link che ho scritto questo è un esempio di link set che ho fatto con i quadri questo è un esempio del contenuto che ho fatto e poi questo qui che vedete qua è esattamente lo script che ho fatto prima l'unica differenza qua è che la numerazione dei prim è diversa è opposta a quello che ho fatto qua nel senso che è l'uno e il root l'ho fatto quello in cima vedete che è giallo e gli altri i blu sono i 2 3 4 comunque questo qui è lo script quindi tra l'altro voi potete anche andarlo qui selezionarlo e ci avete lo script credo che funzioni vediamo un po' se funziona effettivamente ok e qui qui avete il vostro script ok come vi sembra fin qua questa cosa allora il perché vi faccio vedere il link set e lo script che lavora sulle facce è anche proprio un discorso che è vicino all'ecologia degli script che ho fatto nella prima puntata nel senso che se noi riusciamo a fare un link set magari che copre tutta non so proprio una sim ma insomma quasi e avere un solo script che comanda tutto l'ink set io riduco il lag perché avrò un solo script che pilota tutti i prim anche se sono molto lontani da lui quindi immaginate che questi cubi invece di metterli qua li mettono magari tutti su come dicevo prima su un intero edificio posso averne 254 quadri per ogni per ogni pittore quindi lo script che pilota tutti gli altri tutti i quadri tutte le cornici del palazzo vengono pilotati da uno solo e genera poco lag invece se voi fate ogni singolo quadro gli mettete uno script avreste avreste un eh sì quindi tra l'altro Linkset è potentissimo perché viene usato anche in Second Life ad esempio per avere uno script unico che alza e abbassa le finestre gli cambia colore insomma tutte queste cose qua insomma però per me la cosa interessante era quella di farvi vedere una cosa semplice che fa queste cose qua allora questa è la parte semplice e volevo solo capire se vi ho perso o se avete capito tutto quello che abbiamo fatto sì esatto infatti il problema che ho scritto allora io adesso la parte 1 è la parte semplice adesso faremo la parte 2 una parte un pochino meno semplice e cioè come diceva Michela giustamente se devo poi mettermi se devo poi mettermi nello script a specificare tutte le volte e fare copy e incolla insomma in tutti i quadri c'è da diventare diciamo un po' matti nel senso che se io veramente avessi un link set di mettiamo che si arrivi anche a mille e poi per ognuno dei link set devo dire l7 link texture di 4 metti quello l7 link texture di 3 metti quello e così via e devo tutte le volte ripetere queste cose può diventare complicato allora ci sono delle strutture nel linguaggio LSL che permettano di cercare di rendere un pochino più efficiente questo mestiere quindi cercare di mettere i quadri che voglio mettere anziché di metterli così li posso mettere in mi ricordo in un posto quindi prendiamo questo script ad esempio e diciamo tutti i quadri c'è un quadro che si chiama Claude Monet poi un Claude Monet donna eccetera io potrei raccogliere questo elenco di quadri in un elenco appunto e gli elenchi in in LSL si chiamano liste quindi potrei fare una lista che chiamo quadri quadri Monet quadri Monet e gli ecco qui dentro metto tutti la lista si definisce così uguale si mettono una quadra e poi dentro la quadra si mettono tutto l'elenco dei quadri che voglio mettere a, b e c metto adesso ma in realtà qui dentro metterò tutti i nomi quindi metterò Claude Monet vado qua Claude Monet in b metterò Claude Monet don qui gli metterò le ninfee pantalonci si probabilmente il tastellino è fatto con una lista e poi infine abbiamo questo signore qua ok e qui abbiamo apicetti apicetti quadra poi credo punto virgola che vuole ecco se per caso mi dimentico parte che sapete no che potete anche metterli allora ctrl d formatta e poi potete fare ad esempio andare a capo in modo tale da avere con chiarezza tutti la sequenza ctrl d ce lo allinea quindi questi qui sono i quadri di Monet a questo punto l'idea è quella di mettere nel punto 4 il 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 primo nel nel 3 mettiamo il secondo nel 2 il terzo e così via fare un po' il giro di queste cose però il numero non ci aiuta molto quindi forse conveniva veramente cambiare l'ordine degli oggetti in maniera tale che l'1 sia veramente Claude Monet che fosse la root 2 sia il quindi noi in questa cosa potremmo avere l'1 che sia proprio il primo che sia il nome dell'autore 2 3 4 però adesso abbiamo l'ordine opposto allora come facciamo a risolvere questa cosa quindi in realtà dobbiamo poi rifare anche l'inventario lo script ma facciamo per esercizio nel senso che lo bene facciamo una nuova giusto giusto per completare insomma la cosa quindi facciamo creiamo creiamo 1 2 3 4 facciamo il totem artistico no facciamo ctrl shift e ingrandiamo no non va bene guardate cancello perché facciamo questo shift la facciamo e poi a questo punto forse per fare la cosa migliore è di andare nell'oggetto e di le dimensioni che anziché 0,5 facciamo 0,8 ad esempio 0,8 0,8 0,8 per avere questo cubo esattamente un po' più grosso ma centrato con gli altri no ora se avete seguito la lezione finora vi chiedo come facciamo a fare un link set in modo tale che il cubo in alto sia il primo cioè il numero 1 del nostro link set ok bisogna cliccarlo per l'ultimo quindi bisogna andare e fare esattamente il contrario che l'abbiamo fatto prima modifica si seleziona l'ultimo in basso 2 3 e 4 e si fa in modo tale da selezionare per ultimo questo qua quindi bisogna selezionare cioè quando si seleziona quando si fa l'insetto bisogna anche fare le cose con un po' di di preordinamento no per fare le cose bene ctrl l l'abbiamo fatto vediamo un po' se funziona quindi un oggetto impatto terreno 4 questo ci dice che abbiamo un oggetto ma 4 prima quindi vuol dire che l'ha fatto e a questo punto facciamo di nuovo il mestiere di prima nel senso che andiamo in contenuto nel contenuto ci facciamo uno script fatto e vabbè facciamo script texture anche qua possiamo anche cambiare di nome e poi qui come al solito ci mettiamo dentro le nostre texture quindi per esempio Van Gogh questo le recopiamo dentro ritorniamo nella situazione originale a questo punto chiaramente non è più le texture sono state messe qua e non qui e andiamo a prendere il nostro script texture facciamo modifica e qui lui ci aprirà una seconda copia del nostro editor però abbiamo ancora l'altro editor precedente quindi abbiamo due editor questo qui è lo script del vecchio e questo qui del nuovo quindi possiamo anche fare copia in colla se vogliamo e quindi cosa facciamo facciamo un copiamo questo pezzo che è un default eccetera e lo mettiamo non so se riuscite a seguirmi sto semplicemente cercando di ricostruire lo script e cerchiamo di ricostruire lo stato monè e lo ricostruiamo però cerchiamo adesso di farlo con le liste quindi prendiamo questa lista e la riportiamo qua la lista e a questo punto invece di fare l'L7LinkTexture da 4 a 1 dobbiamo fare la lista da 1 a 4 quindi 1 2 3 4 e qui gli mettiamo anziché Claude Monet gli mettiamo il primo elemento della lista ecco qui purtroppo in Second Life in RSL il modo di farlo è un pochino complicato perché bisogna fare ll list to string andiamo dovrebbe essere l list sì ll list to string praticamente si prende ll list to string di questa lista ctrl c questa e gli si dice di prendere il primo elemento però purtroppo il primo elemento in informatica non è 1 ma è lo 0 perché il computer parte da 0 non parte da 1 quindi è strano quindi quando io scrivo ll list to string e poi gli dico la lista dovevi prendere e poi virgola gli chiedo cosa prendere allora gli devo mettere quadrimonè che sarebbe questa lista e di questa prendiamo il primo elemento e cioè lo 0 non so se vi confonde il fatto che dico primo elemento e scrivo 0 ricordo quando l'avevo studiato io da piccolo quando avevo imparato l'informatica era stato un piccolo shock eh sì esatto quando fai le liste cioè quando fai tutte ma lo vedremo adesso perché lo facciamo adesso anche questo poi dovrei fare ll set link test di due ll list do string di quadrimonè uno e così via no? in realtà sarebbe una ripetizione anche quella e allora per evitare questo si fa un bellissimo for i for li avete visti con l'altra volta con con Michelangelo no? allora il for sarebbe proprio per avere una cosa che va progressivamente e assume tutti i valori che ci interessano nel nostro caso noi vogliamo scorrere la lista di quadri quindi vogliamo avere qualche cosa che vada dal primo elemento fino all'ultimo no? e quindi semplicemente dobbiamo avere quello che si chiama un indice quindi si fa integer i che tipicamente si prende una i e poi si dice questa cosa qua for i uguale zero punto virgola i minore i quanti sono? 4 che sono i 4 elementi e i più più allora per il momento purtroppo c'è posso anche spiegarvi cosa significa ma imparatelo anche un pochino per induzione cioè qui in pratica vuol dire che si scorre questa lista partendo dall'indice zero per tutti gli indici che sono minore di 4 quindi zero uno due tre quindi questa cosa qua scorrerà da zero a quattro e questo i più più vuol proprio dire che l'indice incrementa di uno ed è il modo normale per scorrere una lista di cose quindi ogni volta che scorro così scorro su una lista e poi si fa la graffa e qui si metterà l'indice quindi i che verrà di volta in volta zero uno due tre qui anzi no qua in realtà l'indice i zero da noi diventa il link set uno quindi dobbiamo mettere in realtà i più uno perché lo zero dobbiamo mettere sul prim che si chiama che si chiama uno dobbiamo purtroppo fare tutto questo giro qui dobbiamo mettere l'iesimo adesso poi lo discutiamo un attimo e qui va via tutto questo e possiamo fare questo giro facendo così succede adesso lo vediamo che lui ha messo i quadri al posto allora diventa un po' complicato ma è tutto sommato la base per quasi tutto quello che si fa in lsl cioè il for è veramente la base quindi è vero che è brutto da vedere soprattutto le prime volte ma è proprio la base questo qui è il ciclo nel senso che si dice prendimi tutti gli elementi di questa lista e ognuno di questi elementi quindi la prima volta l i vale zero quindi viene preso l'elemento zero cioè il cloud mode e questo elemento zero viene messo nel primo uno perché i più uno vale uno quindi se voi andate a capire che cosa succederà la prima volta praticamente i vale zero e quindi quello ll set link texture diventerà un ll set link texture di uno quindi questo qui vale visto che i vale zero questo vale uno e poi si prende lo zeresimo elemento il primo e così si gira praticamente su quella lista secondo me lo guardate un attimo beh dipende anche da quanto siete abituati anni tu come lo spiegheresti questa cosa? a uno che ma tu lo conoscevi il for anni prima? anni lo usavi? ma adesso come te l'ho spiegato io lo capisci? in realtà il for viene spiegato spesso in un modo molto diverso da come ve lo sto spiegando io però forse a me piace spiegare le cose che servono quando a uno gli servono proprio quindi questo è il modo per girare su tutte su tutto un insieme di su tutto un insieme di di quadri semplicemente scrivendolo una volta sola quindi questo è allora mettiamola così se vuoi se vuoi risultasse difficile scriptare con i for scriptare con le liste usate la tecnica prima la tecnica facile che vi ho fatto vedere nella prima parte della lezione chi di voi invece gli piace fare delle cose un pochino più complesse può usare questa tecnica che fa il for e quindi adesso se vedete io posso fare anche lo stato di Van Gogh quindi faccio ctrl c copio faccio lo stato di Van Gogh Van Gogh e qui quando tocco torno allo stato di Monet e qui però ovviamente devo far vedere una lista di quadri differente nel senso che qui devo mettere i quadri di Van Gogh basta che qui scrivo Van Van Gogh quadri Van Gogh e poi a questo punto devo farmi una lista dei quadri di Van Gogh quindi qui all'inizio eh sì list quadri Van Gogh uguale e poi andiamo a metterci i nostri punto virgola e andiamo a mettere il Van Gogh quindi Van Gogh che abbiamo allora uno due tre quattro e qui dentro dobbiamo andarsi mettere Van Gogh il primo e qui mettiamo Van Gogh trattino campo qui mettiamo Van Gogh trattino notte notte stellata e Van Gogh trattino tempesta e ovviamente qui andiamo a mettere ah no l'abbiamo messo quadri Van Gogh quindi così è già posto quindi praticamente qui abbiamo fatto un qualche cosa abbiamo fatto qualche cosa che adesso fa esattamente quello che abbiamo fatto prima quindi questo clicchiamo ci fa vedere i quadri di Van Gogh clicchiamo ci fa vedere i quadri di Monet la differenza fra questo script e il precedente sta proprio solo nel fatto che nello script complicato vedete che qua se voi per caso aveste 200 quadri questa parte di codice c'è lo stato qua una notte a Marant rimane sempre uguale cambiate soltanto la lista dei quadri e eventualmente il numero qua fuori uguale 0 e minore di 4 e no e cambia parecchio perché qua scrivi soltanto un nome e invece qua oltre al nome dovevi dovevi scrivere tutto il resto del comando quindi scrivi comunque molto di meno adesso tu lo vedi più lungo perché ti sembra più lungo ma qui immaginati immaginati di avere veramente 100 quadri se hai 100 quadri questa cosa qua deve ripetere 100 volte mentre invece qua la devi ripetere soltanto per il nome del quadro anzi addirittura addirittura si potrebbe fare un qualche cosa per cui il nome dell'autore lo mettiamo lo mettiamo lo diciamo una sola volta ma visto che stasera vi ho già detto un sacco di cose magari vi risparmio insomma l'eleganza del codice vi assicuro che si possono fare degli script molto eleganti questo script qua lo volete ve lo metto in chat? sì allora ve lo metto in chat tra l'altro nel Google Classroom avevo messo uno script leggermente diverso ma magari facciamo che mettere anche questo aspettate che lo metto nel Classroom quindi qua sì era una cosa ancora più complessa ma magari ve la risparmi effettivamente quindi mettiamo versione 2 del corso quindi prendiamo questo selezioniamo se riuscirò ok andiamo a componente del codice start sì è nella Classroom cioè questo questo qua è linkato direttamente nella Classroom quindi lo trovate in Classroom non so se vi è chiaro come mai quindi qui versione 2 del corso che è quello che abbiamo visto adesso è già salvato dentro nella Classroom andate qui dove 11 dicembre link set list texture e a questo punto automaticamente cliccando qua vi compare la versione nuova che appena modificato la bellezza che mi piace molto di Google è che lavorando in questo modo si si risparmia si ottiene un po' tutto quindi il ripeto se la prima volta che vedete i for questa cosa magari vi spaventa è spaventoso ma sappiate che questa struttura qua si ripete praticamente quasi tutti gli script fatti in giro hanno quasi sempre dentro questa cosa qua fuori uguale 0 i minore di un numero e questo serve proprio per contare in realtà per ripetere la stessa cosa n volte in questo caso noi lo usiamo per ripeterla 4 volte permettiamola un pochino più grossa ah no qua non ce la fa vedere forse un pochino più grossa la si vede la vedete cos'è il punto interrogativo analisa dove lo vedi il punto interrogativo che non lo vedo ah i scusami no no ho capito male allora i è un è un è un è un è un è un aiutante è la lettera i appunto che si usa dai tempi dagli anni 50 per indicare una cosa intera perché lista è l'iniziale di intera ma anche in matematica in generale se voi insegnate matematica spesso gli indici di una lista di una matrice di un array no sono sempre indicati tipicamente i quindi in informatica si usa la i proprio per dire che si si scorre l'indice quindi potete vederla come indice si può usare anche j e k ad esempio infatti si usa i soliti i j k l m n ma questo in matematica e si scorre a seconda degli g che sono necessari ok quindi questo è diciamo tutto quello che credo che valga la pena dirci di oggi quindi se avete allora io adesso abbiamo quasi finito ma se avete ancora una domanda due magari provo a rispondere io ho cercato di comporvi questo pezzo di script in modo tale che sia sia comprensibile nel senso che prima abbiamo fatto l l 7 link texture con il numero del link il nome che viene ottenuto qui invece della lista dell'array e poi il posto in modo tale da imparare appunto il for next e poi abbiamo fatto le liste e qui la cosa interessante è che abbiamo la possibilità di estrarre data una lista il suo ennesimo iesimo elemento io direi che adesso magari poi sistemo qualcosa nel Google Classroom e se c'è qualche altro dubbio ne parliamo su Facebook credo che il prossimo incontro di scripting a questo punto vada oltre Natale e lo seguirà poi Michelangelo quindi direi che per adesso interrompo la registrazione e chiudiremmo un secondo che vediamo